Mamma, lui è John. Signora, io spero che lei non si offenda se le dico che farebbe bene a sedersi prima di cadere. Papà, io capisco la tua sorpresa. E' molto interessante davvero vedere un vecchio liberale incallito venire faccia a faccia con i suoi principi. Indovina chi viene a cena. Chi viene? Vuoi dire, i genitori. Signore, salvasci questa casa in base dai negri. Spencer Tracy, Catherine Hepburn, Sidney Poitier. Per gli imperdibili, indovina chi viene a cena. Sabato, alle 21.15, sulla 7.